Carissimi amici, è arrivato PaninoTube e oggi torniamo nella serie di Ice Cream, quella dove noi rifacciamo tutti quanti i capitoli in attesa di Ice Cream 6 Oggi siamo qua con il terzo capitolo, quindi partiamo subito, ma come sempre lasciate qui sotto tantissimi like, lasciate più like possibili per aiutarmi a supportare questa serie E se vi piacciono questi tipi di giochi, questi tipi di video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina anche perché qua su questo canale faccio video tutti i giorni, due video al giorno per un doppio divertimento E infatti stasera le 19.05, non manca dal video perché ci saranno nuovi segreti in arrivo di Ice Cream 6 Partiamo subito, cominciamo questa volta, però il video lo faremo in difficoltà fantasma e vi spiego anche il perché Perché io prima avevo iniziato a registrare in difficoltà normale, però tutte le volte che mi mettevo a parlare con Liz, con Charlie o fare il dialogo quello là per il minigioco della minimoto Compariva sempre Rod, non riuscivo mai a finire sto dialogo, non riuscivo a proseguire perché mi veniva Rod vicino, dovevo scappare, sennò Rod mi prendeva Quindi, secondo me uno dei difetti di questo gioco è appunto che quando ci sono i dialoghi, Rod non dovrebbe proprio comparire, uno dovrebbe finirli, no Vabbè, tocchiamo play, cominciamo, terzo capitolo, ieri abbiamo visto il secondo capitolo dove Liz è stata rapita da Rod e non è riuscita a scappare dal furgone Ma all'interno di questo capitolo scopriremo altri dettagli, scendiamo, 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 veloci, veloci, veloci Ok, voglio pure farlo velocemente questo capitolo perché non voglio fare un video tanto lungo Allora, cerchiamo subito la chiave, dove sta la chiave? Ok, scusa, raccogli qua, chiave di casa, apri quella porticina E qui davanti adesso ci sarà un filmato dove compare Mike che va a parlare con Roddino E caro Mike, però te con l'electrogan, ma usala, usala, e invece no, Mike a quanto pare mangerà il gelato speciale di Rod Rodd diventerà un chubby boy E qui per la prima volta vediamo appunto il gelato speciale di Rodd E' la prima volta che compare nella serie di Ice Cream, è la prima volta che lo vediamo Adesso, shotta qua, apri quella porta, perfetto, ci andiamo direttamente qua Centro commerciale, andiamo a fare un po' di shopping al centro commerciale, sì Soltanto che ho dimenticato a casa le tessere dei negozi E saperlo prima, ho dimenticato pure il portafoglio, senza soldi che shopping vado a fare E vabbè però, e ditemene le cose Dimmelo Rodd che voleva andare a fare shopping al centro commerciale che sarei venuto volentieri Così magari compravo pure i regali di Natale, no? Vabbè, come regalo di Natale ci prendiamo una bella pala, così a caso, no? Uno non sa che cosa comprare, viene al centro commerciale per una pala Che tra l'altro neanche in vendita, perché questo cos'è un negozio, buh, non lo so Vabbè, e prendiamo, ce la se c'è, dobbiamo prenderla Andiamo subito via via via, andiamo nel camping Dobbiamo entrare dentro il furgone Nel campeggio, infatti, si trova una cosa molto importante Sarà un campeggio molto particolare Perché qua, adesso che noi ci andiamo Scopriremo che questo è il campeggio dell'Igol School Della scuola di Evil Nun Per la prima volta abbiamo un collegamento tra Ice Cream e Evil Nun Un collegamento diretto Su Screen 2 abbiamo scoperto che Rodd aveva una madre Però ancora non si sapeva chi fosse sua madre E qua su Screen 3 scopriamo molti dettagli in più Allora, dovevo trovare la mappa, va? Vediamo se mi ricordo ancora come si gioca Perché non ci gioco da una vita da Screen 3 Vabbè, avendoci giocato poco fa in difficoltà normale Le cose le so ancora fare A quanto pare mi ricordo Allora, devo trovare adesso qua Seguiamo qua i metri Devo trovare il buco giusto da scavare Un buco che conterrà una chiave segreta Oh, perfetto Non si vedeva perché era al buio Era al buio, c'era l'ombra Devo subito a prendere la pala Ma scusa, ma caro Jay Ma non puoi scavare con le mani Per forza la pala devi prendere Non è che di te, boh Deve scavare chissà quale fossato, no? All'interno del camping Ma sono buche leggere Cioè, buche piccole che si fanno, no? Vabbè, Roddino Sempre qua che ti metti a fare il canterino Hai, mi raccomando Continua a cantare Che poi un giorno ti voglio vedere a Sanremo Vincere proprio al festival Andiamo di sopra Veloce, veloce, veloce Andiamo a mettere qua il primo cavallino E questa è una casa molto importante Questa era la casa sull'albero Dove veniva Rodd Quando era piccolo Proprio perché Rodd comunque frequentava l'Igol School Rodd veniva nella scuola di Volnan L'abbiamo pure scoperto su Ice Cream 5 Durante i filmati segreti Allora, prendi qua a fare Cracker Scendi, scendi Su, su Scendi di qua Ogni volta a fare quelle scale E che roba, e che roba Sì, il bug delle scale non l'hanno ancora fixato Fixato Ogni volta che provo a scendere da lì Devo mettermi lì di impegno Per cercare di scendere Altrimenti il personaggio non scende Allora, Metro Station Velocemente Andiamo di qua Adesso qua dalla Metro Dobbiamo recuperare alcuni oggetti particolari Ma guardate qua che cosa c'è Un firmato molto importante Rodd sta tornando a casa Perché è morto Joseph Sullivan Suo padre Dicembre 1955 Casualmente 15 anni dopo Precisi Dalla nascita di Rodd Beh, lui è nato nel dicembre del 1940 Vabbè, qua adesso c'è Una suora che dice Rodd c'è tutta una spiegazione No? Apri sta porta Devi tornare da lei C'è tutto quanto un motivo Una spiegazione Vabbè, adesso gli lascerò una lettera Dove scopriamo pure dove abita Rodd No? Eccola qua La lettera scritta da sua madre Scopriamo appunto che Rodd vive A Metal In Falls Ma che roba Ho pure fatto un video dedicato a Metal In Falls Dove ci sono molti riferimenti Interessanti con Rodd No, no, veramente Sono troppe coincidenze Ci sono Va bene, allora Iniziamo a mettere qua Va, velocemente Così distruggiamo qua tutta sta parte di legno Che, cioè, dico io Jay Ma non potevi spostarlo con le mani, no? Per forza distruggere E che roba No, no, perché fare ste cose Tra l'altro Non si possono neanche fare legalmente Terreato mettersi qui a fare ste esplosioni Allora, vediamo se riusciamo a trovare subito qua Il cric per la moto Dovrebbero trovarsi Sì, le scarpe A posto Via, via, via Apri qua la porticina Ce ne andiamo da questo lato Andiamo subito a lasciare il cappellino di sopra Le scarpe Vai Sì, in questo gioco dobbiamo recuperare Quattro cavallini Che erano praticamente i giocattolini di Rodd Puoi recuperare anche i nostri amichetti Quindi Liz e Charlie Allora, piazza di qua Metti sto coso Andiamo adesso a prendere le scarpe Eh sì, perché giustamente Jay non è in grado Di prendere due oggetti alla volta, no? Prendiamone uno alla volta, no? Ha le mani, non lo so Mani di ricotta Allora Prendiamo qua adesso le scarpe Mamma mia, che puzza ste scarpe No, no, seriamente Delle scarpe qua dentro Una puzza Ma poi sto vagone della metropolitana Così abbandonato Ma perché? Ma lo pulissero almeno Lo pulissero Vabbè, allora Saremo di sopra Veloce, veloce, veloce Devo lasciare qui le scarpe Torrod Ti servono un paio di scarpe? Te le do volentieri Visto che qua veramente Una puzza Anche se dal gioco non si sente Io quando vedo quelle scarpe Ogni volta mi immagino sempre Quella puzza di piedi Mi viene da tappare il naso Ma che roba Ma che roba Allora scendiamo di qua Prendiamo pure l'orario giusto Che dovrebbe essere Allora Eh, 170 Non è neanche un orario È un numero Un codice Un qualcosa Andiamo a scrivere 170 con le leve Che stanno di qua Su, speriamo che adesso Si trova qua il cric Oh, abbiamo pure trovato Idraulic jack 170 1 7 E 0 Ok, abbiamo attivato Il meccanismo In questo modo Possiamo recuperare Il secondo cavallino Ebbene sì Perché se noi proviamo A recuperare subito Adesso il cavallino Succede una cosa molto brutta Un treno ci viene addosso Ditemi un po' Se un treno deve venirmi così addosso Ciao Radina Mi porto via il coso E mi porto via il cric idraulico Devo dire che qua abbiamo fatto un po' di rifornimento Abbiamo preso più roba qua All'interno di questa metro station Che all'interno di un centro commerciale Su Ok, non saliva più Non mi saliva il personaggio No, no, seriamente Ho fatto più shopping qua Che nel centro commerciale Ma che roba è? Allora, lascia sto coso Va Mamma mia Mamma mia Quanta roba Che sto buttando lì dentro Ormai il furgone di rod È diventato un deposito oggetti Non è più un Furgone Di gelataio Apri qua Perfetto Devo recuperare subito il cavallino E dopodiché possiamo pure Andarcene via dalla metro Che non ci servirà più E il secondo cavallino È stato recuperato Alla grande Bye Che poi dico una cosa, no? Ma il treno che passa qui sui vagoni Sempre quando devo recuperare Sto cavallino No, proprio puntualissimo È puntualissimo I treni che arrivano sempre in ritardo Quando devo recuperare le cose Dalle rotaie E vengono puntuali Ma dai trenino Fatevi gli affari vostri Andiamo, andiamo, andiamo Veloce, veloce, veloce Devo subito lasciare questo cavallino Dentro il furgone E dopodiché possiamo andare a recuperare Anche il secondo cavallino Quindi lascia di qua Ce ne andiamo adesso nel circo E voglio dire il terzo cavallino Che si trova all'interno del circo Dobbiamo mettere le scarpe Al barbone È al senza tetto Apri qua Perfetto Andiamo, andiamo, andiamo Caro amichetto senza tetto Che stai lì a dormire Prenditi qua un bel cappello Altrimenti poi prendi troppo freddo Che poi non vorrei dire Ma vanno a dare la chiave Di uno dei caravan del circo Ad un senza tetto così a caso A lui le vanno a dare ste chiavi Ad una persona a caso Come se io trovassi così Un senza tetto sotto a casa mia E dico Tieni le chiavi di casa mia Custodiscimele Mi raccomando Così a caso Allora Dove stanno me le scarpe? Eccole qua Andiamo, andiamo, andiamo Veloce, veloce, veloce Andiamo di qua Perfetto E adesso dammi la chiave del circo Ma che roba A lui la vanno a dare sta chiave A lui sono andati a darla Rodino caro Buonasera, buonasera Mi faccio qua i giri, eh Mi raccomando Rod Preparati che molto presto Ci dobbiamo di nuovo Rincontrare Con Rod ci ribecceremo molto molto presto Questo venerdì Su Ice Cream 6 Allora andiamo di qua Apri la porticina Perfetto Prendi qua il cavallino Raccoglilo E adesso ce ne andiamo subito Via da questo circo Poi dovremmo tornare Perché lì sopra Sopra quel palazzo È nascosto Quel fifone di Charlie Quel fifone di Charlie Si è nascosto lì sopra E dobbiamo andarlo a recuperare Andiamo veloci, veloci, veloci Questo lo lasciamo di qua E adesso è il momento qua Di andare di nuovo Al centro commerciale Dobbiamo fare la sfida Della minimoto Una delle sfide Che tanti di voi odiano 1940 Dicembre Questo È un momento molto importante Qui è È appena nato Rod Quel bambino Che sta in braccio Con la suora È Rod il gelataio Neonato Appena nato Ma che roba Tutti quanti dicono È un miracolo Ed effettivamente Sì È un miracolo Perché abbiamo scoperto Sui Volnand 2 Che la suora Si è ritrovata così Incinta Da un momento all'altro Noi sappiamo il motivo Sappiamo chi è che L'ha messa in cinta È stato Nasrat Che ha creato Tutto quanto Dentro la sua pancia Però in tempi Ancora non si sapeva Ancora non lo sapevamo Allora Prendi qua il cric Dobbiamo andare a fare Sto coso della minimoto Velocemente Andiamo adesso a recuperare La minimoto Dopodiché ci vediamo direttamente Lì davanti Dove c'è il pulsante Del guardiano Quindi Metti qua dentro Inserisci di qua Raccogli la minimoto Perfetto La minimoto Così a caso Uno la prende A caso ci prendiamo Scendiamo 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 Roddino caro Vuoi farti un giro in moto con me Vuoi farti un giro in minimoto Vi immaginate il rod Che si fa il giro in minimoto E adesso qua sono Sono momenti di dolore Questa parte qua della minimoto Non è per nulla facile Allora Soprattutto se uno Non la fa da tanto tempo Come ad esempio Io che non la faccio da tanto tempo Allora Pronto guardiano Su Cremi qua Ecco qua ci sono tutti questi dialoghi Come vi dicevo prima Io lo stavo facendo In modalità normale Ma mentre ero qui Che chiacchieravo Compariva sempre il rod Mi veniva a prendere Dovevo scappare Quindi non riuscivo mai A completare questi dialoghi E' per questo Che ho dovuto farlo in fantasma Altrimenti qua Non neanche sarei arrivato Perfetto Allora Vai qua Via 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 Facciamo qua subito la gara Allora Non dobbiamo metterci fretta Perché si ci può fare Se uno lo fa con calma Riesce a farlo L'importante è non mettersi Tanta fretta Andiamo 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 Perfetto Ok Dai 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 Via 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 Va bene Nel rettilineo si può pure andare Di corsa Di corsa Ok Adesso qua però Frena Ok perfetto E entra qua Di precisione Di precisione Perfetto Vai qua Vai qua Di corsa Di qua Ma qui adesso Dobbiamo fare una cosa Fermiamoci Perfetto Raccogli Scendiamo 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 Qui conviene farla a piedi Conviene farla a piedi Altrimenti è un problema Un problema Quindi di qua Ok Lascia pure qui la moto Saliamoci sopra Perfetto Dai abbiamo 30 secondi Un po' di più di 30 secondi Dai che già possiamo fare Dai che già possiamo fare Di corsa Mamma mia sto minigioco Della minimoto Mamma mia Ok Vai di corsa Stavo per cadere Stavo per cadere Con la minimoto Ma ditemi un po' Se devo mettermi a correre Con la minimoto All'interno di un centro commerciale Ma ditemi un po' Via Ok Possiamo pure scendere Da moto A due theft wars Un attimo E abbiamo recuperato L'ultimo cavallino Li abbiamo tutti e quattro Adesso ce li abbiamo tutti e quattro Adesso manca soltanto Da fare una cosa Recuperare Liz e Charlie Ma prima andiamo ad inserire Tutti e quattro i cavallini Così prendiamo pure la chiave Perfetto Allora Questo lo lasciamo di qua Andiamo direttamente al camping E ci vediamo direttamente Quando poi ho inserito Tutti e quattro i cavallini Tanto qua filmati Non ce ne sono Quindi Andiamo di corsa Perfetto Cavallini inseriti Abbiamo recuperato la KGK Adesso a differenza Degli altri due capitoli Di Ice Cream Qui non dobbiamo tornare subito Nel nostro quartiere No Dobbiamo andare a racimolare Liz e Charlie Che sono sparsi all'interno della mappa Questa volta però Liz Si trova già qui nel camping E' nascosta sotto un cespuglio E quindi andiamo subito a prenderla Cara amichetta Liz Come stai? Come stai? Jay Sei tu? Che cosa è successo l'altro giorno? Perché secondo te Non sono saltata dal furgone? E dimmelo te Liz Dimmelo te La verità è che tuo fratello Charlie E' saltato senza problemi E quindi Eh si Charlie è saltato senza problemi Cosa? Che cosa? Charlie perché non me l'ha detto? Dove si trova? Eh sta bene? Tutto ok? La risposta che dobbiamo dare questa volta E' la terza Ti sta prendendo molta cura di te Ma una fanciulla della tua classe Dentro un cespuglio? Sì E' perché sono riuscito a scappare al prossimo stop Quindi al prossimo incrocio Tutti gli altri stanno ok? La risposta è 2 Bene Mike è uno di quelli che è stato catturato ora Quindi niente Su vieni qua Liz Vieni qua Oh E' così Bello Dobbiamo fare qualcosa Come è così bello Liz? E' stato catturato Mike Tu dice è così nice Così bello Vabbè Qua la risposta è la numero 3 Bene Quindi dobbiamo fare qualcosa tutti insieme Seguimi nel furgone E nasconditi E andiamo tutti quanti insieme Qua già sta già iniziando a raggruppare tutti quanti i suoi amici Per poter sconfiggere Rod Il problema però è che questa volta il piano non funzionerà tanto bene Lo sappiamo bene come finirà questo capitolo Quindi vieni qua Liz Vieni 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 Entra dentro il furgone Datti una mossa Liz Datti una mossa Perfetto Andiamo a recuperare adesso Charlie che sta nel circo Quindi Andiamo direttamente a fare questa cosa qua Ma qui Prima c'è un filmato molto importante Non è che adesso lo andremo a vedere tutto quanto insieme Ma E' un filmato dove c'è Sister Madeline Che Sta mandando le lettere di auguri a Rod il gelataio Ed è proprio qua che scopriamo che La madre di Rod E Sister Madeline La suona di Evil Nan E infatti qua tra queste lettere Gli manderà anche la pozione segreta La ricetta segreta Quella che userà Rod Per fare i suoi gelati Che trasforma i fanciulli in chubby boy Quindi vabbè Andiamo avanti qua Prossimo stop Circus E niente Andiamo a recuperare Charlie va Ci vediamo direttamente quando sono da Charlie Jace e tu Che cosa è successo? Come ha fatto Rod a catturare Liz? Allora La risposta corretta è la seconda Ok sì L'ha catturata Giusto qualche giorno Dopo che tu sei stato preso Eh però Non aver Stai zitto Non aver paura Ma non ho paura di un gelataio come lui Vabbè Su muoviti dai Siamo ancora amici Certo che siamo amici Charlie Siamo ancora amici Certo Ok E qua però da una serie che dice Ricordati Che io sono il migliore Fra tutti quanti Sì sei il migliore Ma anche il fifone Lo scopriremo anche su Screen 6 Su Screen 6 Caro Charlie Avrei la possibilità di Di mostrarci Di essere il migliore fra tutti Allora Qua la risposta è la terza Ok Quindi andiamo qua avanti Su Dai Che cosa posso fare per te? Mi sta chiedendo Charlie E Charlie Per me devi venire Allora Seguimi nel furgone E nasconditi di là E arriveremo tutte e quattro Se ne salvi Va bene Perfetto L'ho convinto Adesso Visto che Charlie Ci mette un po' Da arrivare nel furgone Ci vediamo direttamente Quando è arrivato il furgone Oh ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Adesso ce ne possiamo andare qua Nel quartiere Nel neighborhood Sì E abbiamo completato Ice Cream 3 In realtà il primo finale Perché cosa Su questo gioco Ci saranno ben due finali Uno è questo Il finale numero uno Ma poi c'è il finale numero due Eccolo qua Sì Tutti quanti liberi Sani e salvi Ce l'hanno fatta Però C'è adesso Un qualcosa Molto strano No Molto particolare No Come potete ben vedere qua Rod si è accorto Che ci stanno i fancioli Dietro di lui No Scappatevene via Scappatevene via Prima che Rod vi congele No Tutti congelati Tutti congelati Eh vabbè Doveva andare così Che ci possiamo fare Ma Rod comunque Ha droppato un oggetto Gli è caduta Infatti la sua formula segreta Chiederei subito Di raccoglierla Via Prende qua l'ingrediente segreto Apri la porticina Ciao amichetti Ci vediamo fra poco Ci vedremo Appunto Dentro la fabbrica di Rod Via Verso la libertà Ma non Verso la fine definitiva Nel frattempo Ci ritroviamo Con Un oggetto Che sta dentro Qua Che era dentro Il furgone di Rod E poi Quello è l'ingrediente segreto Che utilizzeremo Molto molto presto Per sbloccare Il secondo filmato E lo vedremo In un prossimo video Perché per il momento Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Ti è piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Così vi dovete Iscrivervi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Buona giornata Buona giornata Buona notte Ciao a tutti E buon panino a tutti Buona notte